Ho ascoltato gli arbitri, i dirigenti, ho ascoltato quelli dell'Interpol, tutti entusiasti di questo progetto della Lega Pro. Ma non dobbiamo fermarci, perché è talmente forte l'organizzazione criminale che dobbiamo prendere i risultati che abbiamo avuto soltanto come un viatico per accelerare. Perché questa è una partita come il film di Totò, Guardie e Ladri, mentre noi facciamo una cosa gli altri si organizzano e quindi di conseguenza dobbiamo mettere in campo le novità che possano già mettere sul concreto nuove azioni. Ho sentito il dottor Pino Capua, parlando di doping farmaceutico, mi ha spiegato che praticamente è molto difficile combattere quel tipo di lotta perché ovviamente chi crea il doping sta più avanti o ha tanti soldi per poter stare un metro più avanti di chi invece lo combatte il doping. Vale la stessa cosa per voi? Io credo che sia nel nostro caso un po' più di qualche metro, qualche chilometro, basta capire che con un semplice telefonino c'è la possibilità di spostare masse ingenti di denaro. L'affare vale 500 miliardi di euro nel mondo, quindi è un affare di gente, di bande criminali che usano tutti i mezzi e quindi la tecnologia maggiore, le minacce, le estorsioni e quindi sono qualche chilometro avanti.